Grazie, sì, quello che lui cercava di dire è che non vi parlerò affatto di parole crociate, per esempio, però di turchi sì, di cose turche sì, e poi in realtà le parole che da noi si usavano per parlare di loro, una certa, come dire, una certa influenza dell'ideologia crociata ce l'avevano ancora, anche se i turchi, come sapete, sono al centro del discorso piuttosto in un'epoca successiva. E' vero che all'epoca delle crociate sono già turchi il grosso dei capi e dei guerrieri musulmani, e i nostri crociati lo sanno benissimo, spesso dicono i turchi, però si usa più spesso i saraceni al tempo delle crociate, e noi in fondo non facciamo tanta differenza, diciamo gli arabi. Poi invece c'è un momento nella nostra storia in cui, mettiamola così, usiamo il loro punto di vista, dal punto di vista dei nostri antenati, il nemico musulmano è incarnato decisamente dai turchi, dall'impero turco, o per dir meglio dall'impero ottomano. Quell'impero ottomano che nel 1453, come sapete tutti, con il sultano Mehmet II, Feti, il vincitore, il vittorioso, il conquistatore, conquista Costantinopoli, mette fine sul serio alla storia dell'impero romano, che bene o male fra mille trasformazioni era arrivato fin lì, ed è inizio una nuova storia, una storia che vede per secoli come grande potenza egemone nell'Europa sudorientale, nei Balcani, in Medio Oriente, in Nordafrica, l'impero ottomano, l'impero del sultano, con la capitale appunto a Costantinopoli, che oggi noi chiamiamo col nome turco popolare Istanbul, ma che in realtà nei documenti ufficiali del sultano continua a chiamarsi Costantinopoli, Costantini, e vedremo anche perché. Allora, il tema di oggi è più o meno punti di vista dei nostri antenati su questa grande potenza orientale, musulmana, temuta, ma non solo temuta, come vedrete, e che in ogni caso però, temuta o no, era sentita proprio come, per usare un termine banale che si usa oggi, l'altro. Ecco, veramente l'alterità era rappresentata da quel mondo, agli occhi degli europei occidentali cristiani del 400, del 500, ancora del 600. Un'alterità temuta, dicevo, perché? Perché quell'impero è visto come un impero potente, in espansione, e infatti è un impero che per parecchio tempo si espande. 1453 Costantinopoli, ma 1529 il primo assedio di Vienna, da parte di Solimano il Magnifico, poi non la prende Vienna, ma insomma è lì a due passi, e nel frattempo suo padre, il sultano Selim I, ha conquistato l'Arabia Saudita attuale, lo Yemen, la città santa, la Mecca, e diventato oltre che sultano turco, califfo, cioè principe dei credenti, capo della religione islamica. E nel corso del 500, appunto, questo impero che da un lato arriva fino alle porte di Vienna, e che comprende quindi Budapest, Belgrado, Atene, e che poi comprende tutta l'attuale Turchia, e l'attuale Siria, Libano, Palestina, Israele, e in realtà estende il suo controllo, anche se in modo un po' più labile, anche sul Nord Africa, sull'Egitto, la Tunisia, l'Algeria, Marocco no, rimane un sultanato indipendente. Però voi capite, da un lato fino a Vienna, dall'altro fino ad Algeri. È una superpotenza, e da noi fino a fine 500 ci si dice, ma non sarà che poi conquistano tutto il mondo? Potrebbe anche succedere. Noi siamo abituati a pensare che ci sia stata una data decisiva che ha messo fine all'espansione dell'impero. La battaglia di Lepanto, 1571. Bene, durante quella guerra al cui interno viene combattuta la battaglia di Lepanto, a Costantinopoli c'è un ambasciatore veneziano, il Bailo, come dicono i veneziani, Marcantonio Barbaro, il quale ha fatto il possibile per evitare che la guerra scoppiasse, perché Venezia non aveva nessun interesse a farla, quella guerra. Poi la guerra è scoppiata, i turchi ovviamente hanno imprigionato nel suo palazzo l'ambasciatore veneziano, diventato ambasciatore della potenza nemica, l'hanno chiuso in casa con i giannizzeri alla porta. Lui per parecchio tempo ha continuato a buttare giù dalle finestre lettere che i suoi agenti andavano a raccogliere per poi trasmettere al governo veneziano, quando i turchi se ne sono accorti, si sono un po' seccati, gli hanno chiuso anche le finestre con assi, per cui dentro dovevano stare con le candele accese, usciva solo un domestico per andare a fare la spesa al mercato, e così Marcantonio Barbaro è rimasto lì a Costantinopoli fino a quando la guerra non è finita, si è fatta la pace, si sono salutati, ha regalato al Gran Vizir un suo ritratto con su scritto al mio caro amico Gran Vizir dei Turchi eccetera e se ne è tornato a Venezia. Tornato a Venezia Marcantonio Barbaro fa la sua relazione dove dice in buona sostanza abbiamo visto quanto sono potenti in questa guerra, perché notate che i cristiani hanno vinto la battaglia di Lepanto, la guerra l'hanno vinta i turchi, la guerra si è conclusa con Venezia che ha chiesto la pace, ha ceduto al sultano l'isola di Cipro che era tutto quello che il sultano voleva fin dall'inizio, Marcantonio Barbaro torna a casa e dice non si può escludere che questo impero possa anche finalmente, cioè alla fine, ridursi a una monarchia universale, cioè non escludiamo che questi conquistino il mondo, attrezziamoci all'idea, naturalmente poi l'idea della conquista turca può essere presentata in vari modi, può essere usata giustamente per mobilitare il popolo, per spaventare il popolo e il popolo si lascia spaventare volentieri naturalmente, i turchi per noi italiani specialmente, i turchi sono a due passi, nel 400 sono sbarcati a Otranto, per forza sono dall'altra parte, si vede nelle belle giornate la costa dall'altra parte, sono entrati in Friuli, per forza sono lì dall'altra parte in Croazia, in Ungheria, quindi per noi italiani i turchi sono particolarmente vicini e fra le chiacchiere che si fanno al mercato e all'osteria, in certi momenti quando arriva notizia che c'è un po' di movimento a Oriente, la chiacchiera non è che arriveranno i turchi poi, ecco quello nei nostri mercati e nelle nostre osterie si sente. Intorno al 1520, Machiavelli scriveva a Guicciardini lamentandosi perché è stufo delle chiacchiere della gente, dice la gente a Firenze non hanno niente di meglio da fare che spettegolare e parlano sempre delle stesse stupidaggini, dice il Machiavelli, sul diluvio che deve venire, e cioè verrà un altro diluvio universale, visto come sta andando il mondo non ci sarebbe da stupirsi, o sul turco che deve passare, cioè attraversare il mare e invaderci, e se fosse bene fare la crociata in questi tempi, eccole le parole crociate, nelle osterie di Firenze, e conclude il Machiavelli, e simili novelle da pancacce, cioè chiacchiere da osteria proprio, la pancaccia all'osteria non ci sono mica le sedie, ci sono le panche, all'osteria la brava gente che non ha di meglio da fare di questo parla, verrà il diluvio, ho sentito una profezia, poi ne riparleremo delle profezie, verrà il turco e se facessimo la crociata cosa fanno i nostri sovrani, cosa fanno i principi cristiani? Machiavelli evidentemente appunto trova che la politica vera è un'altra cosa, ma la gente non lo sa cos'è la politica vera, la gente ha le sue paure, e il Machiavelli stesso in un'altra occasione ci gioca e ci scherza, i turchi fanno paura, certo, se poi uno dovesse dire esattamente perché fanno paura, perché sono diversi da noi, sono proprio altri, per esempio i turchi quando mettono a morte qualcuno lo impalano e questo fa una paura terribile e fa dire a tutti i turchi sono veramente feroci, molto crudeli, noi la gente la bruciamo viva, gli rompiamo tutte le ossa sulla ruota e li lasciamo a morire lì come si fa con i briganti, gli assassini e così via, e questi sono modi civili di mettere a morte la gente, ma i turchi che la impalano fanno una paura tremenda, Machiavelli ci scherza su, nella mandragola, nella mandragola voi capite ovviamente che su questo fatto dell'impalare si possono fare delle, come dire, delle allusioni, e dunque nella mandragola il Machiavelli mette in scena il dialogo fra una donna e un frate, il frate il suo confessore, a lui la donna dice proprio tutto, e la donna chiede al frate, credete voi che il turco passi quest'anno in Italia? Se voi non fate orazione sì, a fede io ci aiuti, io ho una gran paura di quell'impalare, un'immagine del pubblico fiorentino che appunto va bene, quindi per Machiavelli la paura del turco è quello che appunto agita la brava gente che non ne sa tanto, è un tema comune, è un tema di moda, è una paura diffusa, il bello è che se uno va a vedere nelle nostre fonti del 400 e specialmente del 500, ogni tanto affiora anche il rovescio della medaglia, che è il turco è tutto il contrario di quello che siamo noi, certo, il turco è uno specchio rovesciato, se venissero i turchi, cose turche per l'appunto, e ogni tanto qualcuno dice ma sarebbe così male se tutto il nostro mondo andasse a gambe all'aria e venisse un castigamatti che cambia tutto quanto. A Bologna, un cronista bolognese del 500, Bologna stato pontificio, come qui, il cronista bolognese del 500 racconta l'esecuzione di un condannato a morte, un sovversivo, il quale prima di essere impiccato dichiara al governatore pontificio, vorria piuttosto è il governo del turco che quello dei preti. E il bello è che il cronista commenta, ben avea razón, ma non dirlo a lui. In altre parole, è chiaro che siamo sul paradosso, sono modi di dire, però sono modi di dire significativi. Chi non ne può più del governo che abbiamo, gli viene da dire, guarda, sarebbe meglio perfino se venissero davvero i turchi. Anche perché, i turchi fanno tanta paura, certo, però non è che non si sappia che comunque da loro il sistema è davvero diverso rispetto al nostro. Da loro c'è il sultano che comanda e tutti obbediscono. A Venezia, dove non c'è uno che comanda, ma ci sono i patrizi, c'è la repubblica aristocratica, ci sono alcune migliaia di persone che comandano e si spartiscono tutto, gli uffici, le prebende, le pensioni, gli appalti e tutto quanto, e il popolo fa la fame in certi momenti. Quando il popolo fa la fame, viene da dire al popolo, è certo che se venisse, ricordate quando si diceva da venì baffone? Ecco. Alla fine del Cinquecento gira a Venezia una poesia, una canzone, in dialetto, che si chiama Il lamento dei pescatori veneziani, in cui appunto i pescatori si lamentano che a Venezia si fa la fame, che i patrizi si prendono tutto, che i nobili si mangiano tutto, che per i poveri non c'è giustizia. E poi continua e dice, ma perché Dio, qui italianizzo leggermente il dialetto per chiarirci meglio, ma perché Dio non vuole che i tiranni regna troppo in lo mondo, Dio non vuole che i tiranni comandino troppo, ha parecchiao per far giustizia, ha parecchiao, ha apparecchiato, ha preparato Dio per far giustizia, il turco, il gran soldan, il grande sultano, custughe zuffa quel che essi a zuffao, dove il verbo zuffar, acciuffare, vuol dire prendere. Se arriva il turco ai patrizi, gli riprende tutto quello che loro hanno rubato a noi. Ora, ben inteso, non è che il sovversivo di Bologna o il pescatore di Venezia in realtà vorrebbe davvero vedere il turco per la strada, probabilmente. Però ci sono zone del mondo cristiano dove invece noi sappiamo che la gente voleva vedere il turco per la strada purché i padroni di adesso venissero cacciati via. E questa è una cosa che si scopre quando uno va a vedere la storia greca. La Grecia all'epoca è divisa, in parte sono possedimenti del sultano, impero ottomano, in parte sono possedimenti veneziani. Venezia ha delle basi nel Peloponneso, a Creta, a Cipro, fino alla guerra di Lepanto quando poi Cipro la perde per l'appunto. Ora, c'è una deliziosa simmetria nella vita di questo mondo greco diviso fra due padroni, da una parte i turchi e dall'altra gli italiani, da una parte i musulmani e dall'altra i cattolici. I greci ortodossi, nelle zone dominate dai turchi, sono sempre lì che intrigano per cacciare via i turchi. E si manda a Venezia a chiedere che Venezia dichiari guerra al turco, che mandi soldi innanzitutto, che mandi armi. Ci sono avventurieri che arrivano a Venezia dicendo se mi date i soldi e le armi io vi metto a ferro e fuoco il Peloponneso, faccio insorgere, mandate una bandiera di San Marco. E le autorità turche controllano con molta attenzione, in particolare il clero ortodosso, ogni tanto c'è qualche vescovo che viene chiamato a Costantinopoli a rispondere di quello che sta succedendo. Questo è quello che succede nelle zone della Grecia governate dai turchi. Nelle zone della Grecia governate dai veneziani, noi sappiamo ampiamente, perché gli archivi di Venezia sono pieni di rapporti delle autorità locali a Cipro, a Creta, che dicono qual è la situazione, la situazione è che tutti dicono magari venissero i turchi a liberarci e gente scappa da Creta e da Cipro per andare a Costantinopoli e chiedere al sultano di invadere queste isole e liberarle. Quando scoppia la guerra appunto di Cipro, durante la quale si combatte la battaglia di Lepanto, a un certo punto il bailo veneziano Marcantonio Barbaro riceve dalle sue spie rapporti precisi. Il comandante della flotta del sultano, il capodan Pasha, ha tenuto una riunione con i suoi raiz, i comandanti delle galere, si sono seduti intorno a un tavolo con una carta di Cipro e c'era un esule cipriota che è venuto apposta sia per indicargli dove sbarcare e poi per garantire che appena sbarcano i turchi la gente a Cipro gli correrà incontro a braccia aperte e che conquistare l'isola sarà facilissimo. In quegli anni i governanti veneziani a Cipro mandano appunto rapporti a Venezia dicendo qui la gente non ne può più, la gente è scontenta, i contadini sono trattati male, sono tenuti quasi in schiavitù dai padroni veneziani. Se si continua così non sappiamo come va a finire. Poi scoppia la guerra, la squadra turca sbarca un esercito a Cipro e i contadini greci con i loro preti in testa corrono incontro al pascià acclamandolo e ringraziandolo per essere venuto a liberarli. C'è una prima fase in cui ci sono anche delle rappresaglie veneziane, i veneziani si chiudono nelle due grandi città a Nicosia e a Famagosta. Da Nicosia poi all'inizio appena saputo che appunto i contadini stanno accogliendo i turchi a braccia aperte si decide una rappresaglia, c'è un casale, un villaggio, l'Efkara, che in particolare appunto è il primo che ha mandato i suoi incontri ai turchi. Una notte i veneziani escono da Nicosia, vanno fino a l'Efkara, circondano il villaggio, all'alba lo attaccano, lo bruciano, uccidono tutti per far vedere appunto che è pericoloso ribellarsi contro il dominio veneziano. Fatto sta che dopo qualche settimana il pascial Allah Mustafa conquista Nicosia e quindi rimane solo Famagosta che verrà assediata, sapete la storia, Marcantonio Bragadin e così via, ma gli abitanti dell'isola si sono tutti sottomessi al dominio del sultano. L'anno dopo, sempre durante questa guerra, una squadra turca sbarca a Creta e mettono a terra delle truppe. Anche lì, tempo poche ore, dalle montagne scendono i contadini con i loro preti in testa accogliendo i turchi a braccia aperte. Solo che stavolta i turchi spiegano che loro non sono venuti per conquistare Creta, perché non si sono portati l'artiglieria d'assedio, eccetera, non è un'operazione prevista, sono venuti a saccheggiare un po' e poi se ne andranno e infatti se ne vanno e i rapporti che ci sono oggi nell'archivio di Stato di Venezia su questa vicenda dicono abbiamo calmato le acque con molta fatica, è intervenuto questo gentiluomo, quell'altro ha convinto i montanari a tornare a casa, quando tutti si sono calmati abbiamo arrestato nove o dieci parroci, li abbiamo impiccati e adesso la situazione è di nuovo tranquilla. Però questo è quello che succedeva appunto a Cipro, a Creta. E a Cipro, che appunto viene ceduta al sultano, noi abbiamo la conferma poi di cosa pensava la gente. Nel 1575, quindi pochi anni dopo, un viaggiatore tedesco capita a Cipro e si sente dire che lì è successa una cosa da pochissimo tempo, per fortuna, perché fino a poco tempo prima qui comandavano i veneziani e gli abitanti di Cipro erano trattati come schiavi, ma, si sente dire questo viaggiatore tedesco, che poi lo scrive nella sua relazione di viaggio, adesso sono arrivati i turchi, i poveri sono stati liberati e i loro padroni veneziani venduti in schiavitù in Turchia. Ancora qualche anno, a fine Cinquecento, un viaggiatore inglese arriva a visitare Cipro, lo portano a Nicosia e gli fanno vedere i palazzi ormai disabitati della nobiltà veneziana e gli dicono che i padroni di quei palazzi sono stati tutti ammazzati come si meritavano, come giusta punizione per la schiavitù in cui tenevano i contadini greci. Ora, fin qua abbiamo parlato appunto di umori popolari. Spostiamoci un po' più in alto. Questo impero ottomano che è indubbiamente il grande nemico dell'Occidente cristiano, che è indubbiamente un'alterità con cui si fa fatica anche solo a negoziare. Sono gente strana, sono gente difficile, sono gente dura, sono infedeli. E però, il sistema politico mondiale all'epoca, dico mondiale per dire qui in Europa e nel Mediterraneo, quello che vedevano loro, è tale che è difficile dire che questi sono proprio degli alieni con cui non si possono avere rapporti. Perché? Vi dicevo prima che dopo aver conquistato Costantinopoli non le cambiano nome i sultani. Loro continuano a emanare le loro leggi, i loro firmani, da Costantinopoli la protetta, Costantinie. Il fatto è che dopo aver preso Costantinopoli i sultani ottomani, i quali sanno come va il mondo e conoscono la cultura politica europea, fanno due più due e dicono chi possiede Costantinopoli è l'imperatore romano, Cesare. Costantinopoli è la capitale dell'impero romano. Chi possiede Costantinopoli adesso? Io, il sultano. E dunque i sultani cominciano a rivendicare ufficialmente fra i vari altri loro titoli. Perché appunto è molto variegata la titolatura del sultano. Sultan, che è un termine arabo poi adottato dai turchi, vuol dire semplicemente sovrano, re. Califo, che vuol dire appunto successore del profeta, vicario del profeta, principe dei credenti. Khan, perché i turchi sono mongoli in origine e condividono con i mongoli e con gli unni di una volta questa idea del Khan, il capo tribale, per cui il grande sultano Soleimano il Magnifico è Sultan Suleiman Khan. E poi cominciano anche nei documenti ufficiali a chiamarsi Cesare. Perché chi ha Costantinopoli è Cesare, imperatore di Roma. Voi capite la conseguenza? Il fatto che Roma in questo momento non è nostra è uno di quei piccoli dettagli della storia che poi si metteranno a posto prima o poi. ma io il sultano sono l'imperatore di Roma e questa cosa che sembra uno scherzo in realtà è uno scherzo che però qualcuno prende sul serio. C'è un trattato quattrocentesco conservato dalla Biblioteca Vaticana in cui un giurista anonimo argomenta dicendo che effettivamente c'è poco da fare. La vittoria la dà Dio e se il sultano ha conquistato Costantinopoli è Dio che ha voluto che la conquistasse e quindi Dio ha concesso al sultano il titolo di legittimo imperatore romano. È un trattato anticlericale è un trattato che ragiona su questo perché il vero scopo è di dire la chiesa il clero non devono intromettersi nella politica sono i sovrani che devono comandare e se il sultano a Costantinopoli ha costretto la sottomissione come ha fatto la chiesa il patriarca e così via è giusto anche da noi si dovrebbe far così infatti noi il trattato lo possediamo perché c'è stata subito una confutazione di un giurista e teologo vaticano che ha provveduto a confutare queste argomentazioni ma in realtà quando Maometto II ha preso Costantinopoli perfino il Papa per un momento si è lasciato trascinare dal piacere di questa ipotesi dire cosa succederebbe se accettassimo che lui è davvero l'imperatore romano nel 1461 Papa Pio II scrive una lettera al sultano Maometto II è una lettera aperta un manifesto non si è mai smesso di discutere va presa sul serio è una provocazione c'è da discuterne appunto Pio II lo sapete è un Papa curioso è un intellettuale umanista e ne ha Silvio Piccolomini che ne ha fatto di tutti colori prima di dedicarsi alla vita religiosa e diventare niente meno che Papa è anche uno che però di lì a qualche anno morirà vecchio ad Ancona aspettando che arrivi la flotta crociata che lui ha cercato di mettere in campo quindi è uno che prende molto sul serio questo che sta succedendo in Oriente finirà proclamando appunto la crociata ma prima ha sperimentato un'altra ipotesi Papa Pio II scrive al sultano Maometto II invitandolo a convertirsi al cristianesimo e offrendogli in cambio il titolo di imperatore dei cristiani titolo nuovo ma che deriva direttamente da quello di imperatore romano e è interessantissimo perché il Papa scrive al sultano dicendo tutti conoscono la tua pietà religiosa la tua devozione la tua giustizia tutti sanno che vivi una vita santa di penitenza cosa ti manca per essere cristiano risponde il Papa un po' d'acqua e il battesimo fai quel piccolo passo e il Papa continua dicendo sai perché è in potere della Chiesa attribuire l'impero di Roma che è l'impero universale tanti anni fa la Chiesa ha deciso che l'impero non doveva più essere quello di Costantinopoli ma quello di Carlo Magno e un Papa ha incoronato il barbaro Carlo Magno in San Pietro e l'ha trasformato in imperatore romano ergo noi possiamo fare imperatore chi vogliamo anche il sultano turco ovviamente la condizione che si faccia cristiano e in realtà in questo mondo umanistico da cui viene fuori Maometto II più io II ma anche Maometto la conosce quella cultura lo sapete lui si fa venire i pittori italiani i gentili e bellini a farsi il ritratto e le medaglie i gioielli da orefici italiani e piace piace questo personaggio specialmente a quei sovrani occidentali che magari sono un po' in crisi con la chiesa Sigismondo Malatesta per esempio Sigismondo Malatesta che col papato ha pessimi rapporti manda in regalo al sultano un trattato il trattato dei re militari dell'umanista Roberto Valturio con tanto di lettera di dedica dell'autore al sultano Maometto II ad illustrissimum et excellentissimum dominum maomet bei magnum admiratum emiro et sultanum turcorum ma del resto anche Leonardo da Vinci cercherà di vendere le sue invenzioni al sultano va bene lui appunto scrupo non se ne faceva vendeva il miglior offerente ma il sultano fa parte del gioco è uno dei grandi sovrani del mondo e il fatto che è infedele in certi momenti conta in certi altri facciamo finta di niente c'è anche un altro mito che dobbiamo ricordare per capire bene come mai sono possibili queste contaminazioni è un mito che è nato già durante le crociate durante le crociate è successo questo i nostri sono andati in Medio Oriente e lì a un certo punto si sono trovati davanti ai turchi loro si aspettavano di trovarsi davanti i saraceni termine che dall'antichità indicava gli arabi e in effetti li chiamano saraceni ma appena cominciano a capirci un po' di più e quindi già dalla prima crociata perché quello che vi sto per dire emerge già nelle fonti dalla prima crociata in poi capiscono benissimo che questo mondo musulmano dal punto di vista etnico è un po' più complesso ci sono gli arabi ma quelli che comandano sono turchi quasi dappertutto il sultano la maggior parte degli emiri la maggior parte dei cavalieri sono turchi e nella nostra nella memorialistica dei crociati emerge questa cosa che i turchi certo sono nemici con loro ci si scanna e in battaglia contro i turchi non si risparmiano i colpi e chi vince taglia la testa alle vittime del nemico e torna all'accampamento se siamo noi che abbiamo vinto noi crociati torniamo all'accampamento con le teste dei turchi appese alla sella del cavallo quando vincono loro tagliano la testa a noi e se ne vanno in trionfo con le nostre teste però è comune nella memorialistica dei crociati specialmente nella memorialistica laica nelle opinioni dei cavalieri più che non in quelle del clero è comune l'idea che questi turchi però sono gente veramente in gamba voi sapete i crociati l'aristocrazia medievale apprezza il valore la forza apprezza i bravi cavalieri i bei cavalli quelli che sanno combattere bene le buone spade e i turchi tutta questa roba ce l'hanno i crociati prima di arrivare a contatto con i turchi sono passati nell'impero bizantino in un mondo estremamente sofisticato civilizzato e pacifico dove la guerra e i guerrieri non erano così apprezzati e l'impressione che i crociati hanno riportato di questi fratelli cristiani d'oriente in genere è pessima l'opinione ma proprio quella del volgo voglio dire della brava gente che passa è piena di pregiudizi l'impressione è che questi greci sono degli smidollati sono dei mollaccioni rispetto a noi non valgono niente i greci i turchi invece sì i turchi sono gente tanto che abbiamo tante cose in comune abbiamo tanti racconti dal tempo delle crociate di scambi momenti di tregua prigionieri che chiacchierano con l'emiro che li ha catturati e si mettono a chiacchierare di cavalli e si mettono a chiacchierare di genealogie nobiliari appartengono a aristocrazie simili come valori e comincia a un certo punto a circolare la seguente idea ma turchi 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 dunque i turchi stanno qui in Asia minore che è dove c'era la famosa città di Troia naturalmente certo nel medioevo il mito troiano è conosciutissimo non hanno Omero in greco gli sbidollati bizantini leggono e citano Omero in greco i nostri lo leggono tradotto però lo conoscono il mito di Troia è un mito potentissimo anche perché i romani sono venuti da Troia Enea e così via dunque i turchi adesso stanno esattamente qui dove una volta c'erano i troiani e i troiani ma com'è che si chiamavano i troiani non c'è un altro modo di chiamarli nei testi latini come era già Teucri guarda non è che questi turchi sono sempre i Teucri che erano lì già ai vecchi tempi e quindi antichi quanto noi gloriosi quanto noi certo che a un certo punto anche i turchi cominciano a dirlo anche loro hanno sentito questa storia certo e il sultano Mometto II quando prende Costantinopoli fra le altre cose farà sapere al mondo che i troiani hanno riconquistato definitivamente quello che i greci gli avevano preso e si sono vendicati e adesso hanno vinto loro la guerra la guerra fra greci e troiani dura da duemila anni tremila quanti sono adesso il sultano il conquistatore ha messo fine alla guerra hanno vinto i troiani cioè i turchi quanto erano seri nel dire queste cose va a sapere però tanta gente ci credeva anche perché va detto credevano a tutto la brava gente credeva a tutto l'epoca è l'epoca per esempio delle profezie voi capite non come la nostra epoca illuminata in cui crediamo di poter prevedere quale sarà il pil dell'anno prossimo sono quelle cose che lasciano esterrefatti appena cominci a pensare loro invece credevano di poter sapere come andava la storia del mondo sulla base delle profezie e quando più sono terribili le cose di cui si ha paura più si ha la sensazione che grandi avvenimenti potrebbero accadere e più chissà come mai girano profezie e così voi capite all'inizio del 500 quando la cristianità comincia ad accorgersi che sta succedendo una cosa mai vista prima si sta spaccando la cristianità da quel giorno in cui il dottor Lutero è andato davanti alla porta della chiesa di Wittenberg con un martello e un foglio e ha inchiodato un foglio sulla porta da quel giorno la cristianità non ha più pace è spaccata è lacerata è in guerra si ammazza da tutte le parti si brucia la gente sul rogo da tutte le parti e la gente si chiede fino a quando fino a quando la cristianità vivrà così e fino a quando dobbiamo sopportare dei capi che non sono capaci di mettere fine a tutto questo da dove arriverà la salvezza le profezie dicono e venisse mai dal turco la salvezza 60 anni prima Papa Pio II aveva detto Maometto II ma perché non ti converti basta un po' d'acqua nel 500 sono le profezie che corrono di bocca in bocca che dicono guardate che verrà verrà la fine di quest'epoca orrenda in cui stiamo vivendo e la fine verrà perché il sultano vincerà conquisterà il mondo ricordate che abbiamo aperto con Marco Antonio Barbero che a fine 500 ci crede ancora che potrebbe succedere le profezie popolari dicono il sultano conquisterà il mondo e poi si convertirà al cristianesimo e a quel punto ci sarà la pace non solo fra cristiani ma anche fra i cristiani e i pagani come dicono loro di uno imperatore e il quale pacificherà i cristiani e il paganesimo gli intellettuali stanno a vedere loro alle profezie non ci credono tanto però appunto adesso capite come dire quali materiali ha in mano un intellettuale per esempio della cerchia di Machiavelli che abbiamo citato prima quando si parla di queste cose i turchi sono proprio il contrario di noi e sono cani miscredenti e infedeli certo però il sultano è l'imperatore di Roma e il sultano dicono le profezie dice il popolo che un giorno sarà padrone del mondo e anche che si convertirà al cristianesimo e il popolo dice anche meglio i turchi che non i padroni nostri di adesso e un intellettuale mette insieme queste cose lettera di Francesco Vettori a Machiavelli 1513 venga il turco con tutta l'asia e colminsi per un tratto tutte le profezie cioè siano riempite compiute in un colpo solo tutte le profezie che a dirvi il vero io vorrei che quello che ha da essere fosse presto che non vuol dire ci spero e fin qua vuol dire secondo me succede e allora tanto vale che succeda subito e oltre a quello che ho visto vedrei volentieri più in là mi piacerebbe vivere ancora un po' e vedere un mondo diverso ho già visto tante cose ma mi piacerebbe vederlo cambiato questo mondo Francesco Vettori a Machiavelli 1513 lasciamo da canto il turco il quale fia quello sarà quello che mentre questi principi trattano accordi cioè mentre i nostri sovrani cristiani discutono farà qualche cosa che ora pochi vi pensano e a questo punto Francesco Vettori comincia a entrare in questa linea di pensiero e se il turco davvero si muove e attacca e noi cosa dobbiamo pensare andremo tutti a gambe all'aria sì primo fra tutti il papa naturalmente in modo che io non mi farei meraviglia che avanti che passasse uno anno egli il turco avesse dato a questa Italia una gran bastonata e facesse uscire di passo questi preti sopra che non voglio dire altro per ora Francesco Vettori sapendo che a volte le lettere vengono lette dalla polizia evidentemente preferisce non andare troppo in là però vedete che abbiamo chiuso il cerchio le cose che dice il popolo ogni tanto le può dire anche l'intellettuale sarebbe bello che questo mondo in cui viviamo che fa schifo andasse a gambe all'aria e se deve venire il turco a farlo va bene perfino il turco naturalmente anche i turchi hanno le loro profezie che gli dicono che conquisteranno il mondo forse in ogni caso conquisteranno la mela rossa cosa sia la mela rossa non lo sa nessuno ma i cronisti turchi dicono una voce circola fra il popolo che i musulmani debbono spingere le loro conquiste fino alla mela rossa e tutti a chiedersi ma cos'è la mela rossa qualcuno diceva è Costantinopoli ma adesso l'abbiamo conquistata e la profezia continua a circolare quindi non è Costantinopoli qualcuno dice sarà mica Roma la mela rossa tra l'altro si potrebbe anche tradurre la mela d'oro e forse potrebbe essere anche più adatto altri dicono è Vienna altri dicono è Colonia sapete le vecchie profezie tedesche che dicono che il Barbarossa non è morto ma dorme nel ventre della montagna e ne uscirà quando i turchi abbevereranno i loro cavalli nel Reno e poi quando a Roma si comincia a costruire la cupola di San Pietro a questo punto i turchi sono sicuri no no è quella la mela d'oro e quindi la profezia parla proprio di Roma fatto sta che per generazioni quando il sultano prende il potere dopo la cerimonia di intronizzazione il sultano passa davanti alla caserma dei Giannizzeri a Eup e ritualmente saluta i Giannizzeri dicendogli ci rivedremo alla mela rossa e quindi prima o poi ci andremo a Roma finalmente chiudiamo perché da un bel po' che sto parlando vi dicevo che quello è un mondo altro è un mondo completamente diverso e opposto rispetto al nostro ovviamente per questo fa paura a volte invece per questo serve per mettere il dito sui problemi del mondo nostro e a volte serve per farsi venire delle idee su qualcosa che potremmo imparare anche noi che faccia paura l'ho detto appunto sono infedeli fanno cose strane mangiano cose strane gli ambasciatori veneziani sono ripilati dice questi mangiano riso e montone riso e montone riso e montone anche i ricchi sono sobri non cercano il lusso non hanno nessuna idea di cosa mangiamo noi in Italia e però lo dicono con una lieve preoccupazione perché gente così che si accontenta di poco di nuovo ecco non sappiamo chi li fermerà e poi c'è chi scherza su quegli aspetti del loro mondo che non sembrano tanto raccomandabili e che però rispetto al nostro ci sarebbe quasi metà per scherzo metà sul serio da dire eh facessimo come loro anche noi per esempio ci sono dei passi del Guicciardini che scherza a proposito del seguente tema voi vi stupirete nell'Italia del 500 la giustizia è lenta corrotta e inefficiente i processi non finiscono mai gli avvocati ingrassano dice il Guicciardini parlando dell'Italia del 500 ben inteso e il Guicciardini più di una volta dice ma sai che sarebbe quasi meglio fare come fanno i turchi i quali turchi nelle barzellette turche questo è noto lì non ci sono né tribunali né giudici né giuristi c'è soltanto il cadì locale che è nominato dal sultano che è uno specialista di sharia quindi del corano non ha un tribunale né niente lì il suo ufficio chi ha una causa va dal cadì il cadì ascolta la causa convoca l'altro ascolta anche l'altro decide in mezza giornata ha deciso tutti sanno non ci sono avvocati non ci sono memoriali non ci sono codici niente naturalmente nella realtà e lo dicono le barzellette turche tutti sanno che il cadì dà la vittoria a chi gli ha portato la bustarella più grossa e di conseguenza è tutto meno che un sistema ideale Guicciardini vive nel nostro mondo dove fare causa vuol dire trovarsi un avvocato che preparerà dei lunghi memoriali in latino aprire una causa presso un tribunale che convocherà l'anno prossimo e così via e così via e così via e il Guicciardini dice io credo che siano manco male le sentenze dei turchi le quali si espediscono presto e quasi a caso che è il modo dei giudizi che si usano comunemente tra cristiani perché dice in definitiva si spende talmente tanto nei nostri processi che sarebbe meglio perdere la causa il primo giorno piuttosto che non vincerla alla fine senza dire dice il Machiavelli il Guicciardini che se uno giudica a casaccio una sentenza su due la zecca e io non sono sicuro che da noi le sentenze siano giuste in molto più del 50% dei casi dice Guicciardini ora voi capite si scherza perché si sa che la giustizia presso i turchi è proprio una cosa fatta così lasciata proprio però serve per mettere in luce i problemi nostri ultimissima cosa si trovano cose strane da loro che non ci piacciono e però ci fanno un po' restare così interdetti gli ambasciatori veneziani a Costantinopoli spesso spiegano al governo veneziano che non ci crede che cosa difficile è trattare con i pascià con i visir del governo ottomano i quali non sono come in tutto il mondo civile principi e nobili che discendono da famiglie con tanti antenati e sono al potere perché sono nobili che è il modo normale di fare le cose nei popoli civili no questi sono tutti figli di poveracci che il sultano ha fatto salire per merito e gli ambasciatori veneziani dicono che cosa orrenda sapeste che roba dover trattare con questi che sono figli di pastori e se ne vantano dicendo che è solo grazie ai loro meriti se sono arrivati a quelle posizioni di potere alla battaglia di Lepanto la flotta veneziana è comandata da Sebastiano Venier il quale in una sua lettera dice sapeste che roba dover combattere con questi nemici che non conoscono principi né conti né cavalieri niente da loro il primo venuto se è bravo diventa comandante della flotta questo è davvero il mondo alla rovescia e agli occhi dei nostri antenati sembra un mondo pazzesco e scandaloso grazie grazie